Buona giornata mondiale La Bicicletta a tutti, voglio raccontarvi cosa stiamo facendo per la mobilità sostenibile e per la bicicletta nella nostra città e nel nostro territorio. Innanzitutto dopo tanti anni abbiamo realizzato la prima pista ciclabile all'interno della città, nelle vie che avevano l'area di sedime più larga e questa pista ciclabile si dipana per un chilometro e otto al centro della città che collega un po' i quartieri periferici verso le vie centrali e che è dotata di wifi, di telecamere e di segnalamenti visivi e sonori per gli attraversamenti. Da lì poi partiremo con i prossimi progetti che prevedono l'espansione di questa pista ciclabile verso le altre aree della città così come sono stati anche richiesti e questa è una cosa molto bella proprio da interi quartieri che sono venuti qua in comune a chiederci che questa pista ciclabile venisse allungata e venisse portata sino al quartiere dove loro abitano. Poi stiamo per andare a realizzare la seconda pista ciclabile della città che realizzeremo invece nella nostra montagna un po' il cuore sacro di Nuoro che ha la fortuna di essere una città adagiata ai piedi di una montagna alta millimetro dove ci sono 2.200 ettari di bosco di leccio mediterraneo che è attraversato da un'arteria stradale biforcuta. Una di queste biforcazioni verrà appunto arricchita dalla presenza di una pista ciclabile per accogliere tutte le biciclette che già di solito ci vanno e che ci andranno ancora. Poi stiamo investendo sul piano urbano della mobilità sostenibile che abbiamo già adottato in Consiglio Comunale adesso abbiamo aperto il periodo delle osservazioni e poi verrà approvato definitivamente ed entrerà in vigore e poi stiamo prevedendo di adevire la rete della pista ciclabile regionale che collegherà tutta la Sardegna. Grazie. Grazie.